Dunque il federalismo, c'è il sì della Camera, la Lega concede altri quattro mesi, dunque il voto anticipato si allontana come recita appunto un articolo stamattina su Il Corriere della Sera. Bossi dichiara siamo vicini al tetto, ma per sapere che cos'è in realtà poi il federalismo del quale io credo che siano in pochi in Italia ad averne colto il significato noi abbiamo stamattina il senatore Sandro Mazzatorta al quale diamo il benvenuto e il buongiorno Senatore buongiorno, senatore Mazzatorta è capogruppo alla giustizia della Lega Nord, dunque senatore in parole diciamo abbastanza sintetiche, che cos'è il federalismo, che cos'è quello che ieri è stato votato alla Camera e che cosa porterà di nuovo nell'amministrazione di regioni comuni e dell'Italia in sé? Ieri è stato approvato dalla Camera, sono state approvate le comunicazioni del governo su questo decreto legislativo sul cosiddetto federalismo municipale, è una tappa delle diverse tappe di cui si compone l'attuazione del federalismo fiscale, nel 2009 vi ricorderete è stata approvata la legge delega sul federalismo fiscale che prevede una serie di decreti legislativi, alcuni sono già stati emanati, per esempio il decreto legislativo su Roma Capitale fa parte dell'attuazione del federalismo capitale, del federalismo fiscale, poi c'è il decreto legislativo sul federalismo demagnale che è già stato emanato, è già in vigore, poi c'è il decreto legislativo sulla determinazione dei cosiddetti posti standard dei servizi, delle funzioni che è già stato emanato e è già in vigore, questo del federalismo municipale che ormai sarà tra pochi giorni sulla gazzetta ufficiale, quindi intererà in vigore, poi già oggi è iniziata la fase di stesura del nuovo decreto legislativo sulle costi standard nel settore sanitario, sul federalismo regionale delle regioni e quindi c'è tutto un processo di attuazione del federalismo fiscale che comporterà un lavoro fino alla fine della legislatura, un lavoro intenso per dare attuazione al federalismo fiscale che in sintesi vuol dire dare autonomia ma al tempo stesso responsabilità agli enti locali, questo paese fondato sulle autonomie locali, sugli enti locali, sui comuni, sulle province, sulle regioni, si tratta di dare a questi enti locali maggiore autonomia finanziaria, maggiore possibilità di muovere le leve finanziarie e al tempo stesso assumendosi nella responsabilità politica, evitando quindi che ci siano i trasferimenti statali, evitando quindi che ci sia una deresponsabilizzazione degli amministratori locali e quindi premiando gli amministratori locali bravi e punendo gli amministratori locali incapaci. In sé il concetto è virtuoso, senatore, in quanto poi prende modello da altre situazioni di federalismo che lo sono in realtà. Allora, molti temono invece che in Italia possa accadere, è stato motivo anche di dibattito, che tutto ciò andrà ovviamente a premiare le regioni più virtuose e più ricche, intendo naturalmente prodotto interno lordo delle regioni stesse, intendo economia in generale e ovviamente andrà a penalizzare quelle regioni che tutto questo non lo vivono e che resteranno abbandonate al loro destino. Qual è il rischio effettivo in sostanza? Lei mi ha già capito, parliamo di un nord in parte di un centro che se la caverebbe e di un meridione che sarebbe abbandonato a se stesso. Dunque, c'è questo rischio, senatore? No, non c'è questo rischio perché anche nel decreto legislativo sul federalismo municipale c'è un fondo di riequilibrio che serve proprio a colmare questa lacuna. Laddove questa lacuna sia motivata, come diceva lei, da sfavorevoli condizioni legate a oggettive mancanze di infrastrutture eccetera, ma deve essere questa la lacuna col mare, non possiamo andare a colmare la lacuna della inefficienza, delle incapacità di amministratori locali del meridione. Laddove ci siano situazioni di inefficienza acclarate, il fondo di riequilibrio non può scattare, non può andare a colmare un buco creato nei bilanci degli enti locali inefficienti. Quindi questo fondo riequilibrio interverrà, ma interverrà da dove davvero ci sia una situazione che dal punto di vista geografico, infrastrutturale, demografico possa essere una situazione che richiede di un intervento di copertura per garantire le funzioni e i servizi fondamentali. E quindi tutto si tiene, nel senso che la virtuosità deve essere garantita anche nei comportamenti degli amministratori. Non possiamo più permetterci amministratori locali irresponsabili, come si è visto in alcune regioni del sud, basta guardare il settore sanitario con bilanci che hanno dei buchi profondissimi e che sono ancora al loro posto senza muoversi di una virgola. Dice Bersani che c'è stata troppa fretta e che così rovinate la riforma, Casini aggiunge non possiamo fidarci della Lega, questo è soltanto uno spot. Come stanno le cose, senatore Mazzatorta? Ma la legge delega è del 2009, dunque siamo nel 2011, stiamo ragionando da due anni di questi schemi di decreti legislativi, sul decreto legislativo sul federalismo municipale sono stati sentiti tutti, a partire dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che alla fine ha espresso un giudizio positivo, tutti quanti, tutti coloro che devono essere sentiti. In più come sa benissimo questo decreto legislativo era già pronto per essere adottato, poi il Presidente della Repubblica ha chiesto un ulteriore passaggio parlamentare, questo passaggio parlamentare che teoricamente non era previsto, è stato fatto nuovamente, si è ripassati al Senato, l'ho approvato, si è ripassati ora alla Camera, dunque davvero è stato fatto un lato certosino, accurato, si è sentito tutto. Poi se mi dice questo è il passo perfetto, abbiamo sempre detto che si va graduali perché in questo Paese per ottenere qualche cosa, per fare delle riforme non si può forzare troppo la mano perché sappiamo che se no c'è davvero una situazione di difficoltà nel raggiungere certi obiettivi e si fa gradualmente, quindi questo è un primo passo essenziale per garantire maggiore autonomia e responsabilità agli enti locali. Ma lei sa com'è i politici e gente scaltra, più o meno avranno voluto dire che questo è quanto vi serviva da dare in pasta agli elettori della Lega nella fase preelettorale, capito? Questi sono tutti scappati questi, che dice lei? Non lo so, questo fa parte purtroppo del mal costume del nostro Paese, per cui ogni provvedimento ha chissà quali altre finalità recondite, la realtà è che questo era un obiettivo che avevamo dichiarato in campagna elettorale nel 2008, abbiamo detto che andremo al governo per fare il federalismo fiscale, per dare attuazione a questo processo di devoluzione delle imposte statali agli enti locali e lo stiamo facendo gradualmente, le elezioni mi pare che non siano più all'ordine del giorno, lo ricordavo anche lei che ormai i commentatori capiscono che probabilmente questa legislatura arriverà al suo termine naturale nel 2013, quindi non c'è nessuna campagna elettorale alle porte che ci richieda di fare dei provvedimenti spot, in realtà questo è tutto tranne che è un provvedimento spot, ecco non ha questo obiettivo. Senta, da ultimo e nel ringraziarla ovviamente il senatore Mazzatorda, le chiedo, lei di dov'è? Una domanda di carattere privato, di dov'è? Io sono sindaco del comune di Chiari, in provincia di Brescia, è un comune di 19 mila abitanti. Come no, lei è italiano dunque a tutti gli effetti, si sente fortemente italiano. Sì, fortemente è una parola grossa, sono un cittadino italiano, sono anche un cittadino lombardo, sono anche un cittadino della provincia di Brescia e in particolar modo del mio comune, che è il comune di Chiari, di cui sono il primo cittadino. No, perché volevo chiederle, nell'occasione dei 150 anni d'Italia che farà lei Mazzatorda? Noi lavoreremo, saremo in comune a lavorare. No, ma intimamente lei la festa la sentirà, la vivrà, voglio dire, come tutti noi italiani, insomma, la vivrà o no? Oppure intimamente lo considererà un passaggio malinconico questo festeggiamento? Non è né un passaggio malinconico né una festa per la quale esultiamo, anche perché ripeto c'è molta ideologia, insomma alla fine poi si sia caricata questa festa forse di altri significati che quelli reali, che forse devono essere quelli di spiegare quale è stato l'esito, diciamo, di un processo di unificazione, spiegarlo anche dal punto di vista storico ai ragazzi nelle scuole. Questo è stato un peccato, magari quella giornata si poteva passare nelle scuole per cercare di spiegare che cosa è stato il risorgimento, quali sono stati i passaggi fondamentali di questa epoca, che poi sui banchi di scuola non si studia quasi mai perché i programmi finiscono prima, diciamo. Dunque potrebbe essere un'occasione importante per una riflessione profonda, di trovare anche le radici di una nuova unione, di un nuovo patto che deve essere fatto all'interno di questo Paese e questo processo anche di federalismo serve a ritrovare unione tra delle aree che obiettivamente, come diceva lei, vivono situazioni completamente differenti, quindi devono trovare un modo per ritrovare una loro unione, un loro modo di stare insieme. Questa giornata poteva essere questo. Stiamo vedendo invece altri concerti, grandi cerimonie in pompa magna, ma che porteranno poco alla riflessione seria dei cittadini su questo processo di unificazione che c'è stato con il risorgimento. Senatore, grazie. Allora ringraziamo il senatore Sandro Mazzatorta, capogruppo alla giustizia del partito della Lega Nord. Grazie ancora.